Sal Conference 2022 è un appuntamento cruciale, importante perché gli investitori incontrano le aziende, le società che sono appunto quotate nel segmento star di Borsa Italiana dove ci sono insomma le medie, medie anche medie grandi, imprese che sono un po' la nobiltà delle imprese italiane, le più importanti, le più innovative, le più internazionalizzate e così via. Ricordo che poi è un anno importante perché Borsa Italiana adesso fa parte del circuito Euronext, quindi è uscita la proprietà inglese e è entrato il circuito Euronext che è proprio il circuito continentale europeo, molto grande, discorso molto interessante. Io sono molto contento di avere il dottor Giulio Bonazzi, un gradito ritorno perché l'abbiamo intervistato varie volte, ma d'altronde non si può fare a meno di intervistare una realtà come il gruppo Aquafil che è una realtà importante non solo economicamente ma anche perché diciamo così per sua natura, poi ci spiegherà quello che fa, è nell'ambito proprio della sostenibilità in particolare dell'economia circolare. Allora dottore intanto però partiamo, voi avete dimostrato due cose, 2020 anno durissimo sia anche per la raccolta in materie prime con i vari lockdown in varie parti del mondo, sia per le produzioni, ricordo che il gruppo Aquafil sta in tre continenti, avete 19 credo stabilimenti, è arrivato a 19 stabilimenti in tre continenti, insomma chiaramente si fermava uno, ripartiva l'altro e stava molto compiato, però voi comunque avete dimostrato una grande resilienza chiudendo di poco ma comunque inutile anche il 2020. Il 2021 avete preso di nuovo il volo, allora ci spiega questo 2021 cosa è ripartito e poi le farò la domanda successivamente perché la inquadriamo in un altro contesto i segnali del 2022. Grazie, il 2021 ha ripartito un po' tutta la domanda nei vari continenti e quindi noi ovviamente ne abbiamo approfittato, in particolare c'è stata una fortissima spinta dalla parte sostenibile dell'azienda e quindi i nostri prodotti circolari, cioè i prodotti fatti con il sistema. Scusi, vogliamo spiegare Aquafil perché è molto interessante, perché già capiamo che tipo di azienda è. Sì, Aquafil produce fibre sintetiche e polimeri, quindi normalmente uno dice nulla a che vedere con la sostenibilità, il problema è che noi invece di usare prodotti che derivano dalla petrolchimica, partiamo dagli scarti, quindi siamo in grado di riciclare perfettamente gli scarti che contengono la nostra materia prima per produrre nuovi prodotti perfettamente identici senza alcun compromesso come quelli che derivano da un'economia circolare. Quindi l'economia circolare è a tutto tondo? Di fatto è un'economia circolare nella molecola, adesso si tratterà di fare il salto, di fare economia circolare nel prodotto, cioè per fare vera economia circolare bisognerebbe che le moquette tornassero moquette, le reti da pesca tornassero reti da pesca. Chiusa la parentesi che riprendiamo sul discorso della sostenibilità, stava dicendo del 2020? Sì, che è ripartito un po' in tutti i continenti, in tutti i prodotti, soprattutto con la domanda di prodotti sostenibili a marchio Econi che ovviamente hanno dimostrato e anche in questo particolare contesto di triste guerra tra Russia e Ucraina di avere il futuro in mano. Aquafil è un'azienda che ha sempre prodotto cassa anche negli anni difficili e così è stato il 2020 dove ci siamo difesi molto bene, ovviamente siamo stati attenti alle spese ma siamo riusciti a portare a casa un bel cash flow riducendo fortemente il debito e un piccolo utile. Il 2021 ovviamente è andato molto bene a parte l'ultimo periodo che ha risentito degli aumenti dei corti energetici. Ecco da questo punto di vista ci sono due problemi, uno va beh l'aumento dei prezzi delle materie prime che non si sa se è episodico di un anno poi si fermano, questo credo al momento non lo sa per nessuno, però anche la reperibilità spesso, perché magari la reti da pesca le trova, però magari ci saranno delle componenti per realizzarle, dalle materie prime c'è difficoltà proprio di reperimento, molte aziende trovano questo problema. Dobbiamo fare un distinguo tra le materie prime fatte da processi convenzionali e quindi quelle derivanti da petrolio e gas che ovviamente in questo periodo non sono di facile reperibilità anche perché i trasporti e la logistica internazionale è in una situazione assolutamente complicata, i prezzi dei container sono decuplicati e i tempi di resa si sono triplicati o quadruplicati e poi ovviamente la difficoltà oggi è di importare materie prime dalla Russia e dall'Ucraina che non dimentichiamoci in alcuni prodotti erano le fabbriche del mondo. Mentre per quanto riguarda gli scarti il problema è più legato alla maggiore difficoltà di spostare i container da una parte all'altra del mondo. Noi in particolare abbiamo investito tantissimo nella raccolta diretta degli scarti tra il 2020 e il 2021 e anche nel 2022-2023 continueremo questo trend, quindi ci integreremo a monte, cominceremo quindi dalla raccolta degli scarti, mochette, reti da pesca, pezzi di plastica, un domani probabilmente anche prodotti tessili e andremo a rigenerarli per produrre nuovi tessuti, nuovi pezzi di plastica, nuove mochette. Senta, volevo capire, in questa ripartenza forte che c'è stata nel 2021 e da quello che ho capito nel 2022 le cose stanno andando bene, insomma l'ha accennato, ci sono quali segmenti di business sono quelli che tirano di più e quelli che però lei prevede possano tirare anche nel medio periodo, diciamo da qui a cinque anni? Allora, noi abbiamo avuto risultati molto buoni, come ho detto, in ogni settore, però devo dire che la moda nel 2021 è stata veramente in grandissimo spolvero e così era partita anche nel primo trimestre del 2022. Adesso vedremo quali saranno le conseguenze della guerra tra Russia e Russia. Senta, un'altra cosa, che adesso usciamo un secondo d'Aquafil, ma perché la inquadriamo in un discorso più grande, si parla che la pandemia ha insegnato che forse filiere molto lunghe sono anche filiere fragili, si parla che le filiere nei vari settori tenderanno ad accorciarsi, cioè ad essere più forti a livello continentale perché più sicure, meno soggetti a crisi, meno soggetti a situazioni esogene, di shock. È così oppure finito tutto ripartiranno le filiere lunghe? Ah, saperlo. Diciamo che attualmente c'è un trend, cosiddetto, di cercare di riportare all'interno di ogni continente il più possibile tutta la catena produttiva, ma non è così facile perché ci vogliono le infrastrutture, ci vogliono anche le persone. Non è che noi domani mattina riusciamo a creare centinaia di migliaia di persone che sanno tagliare e fucire i vestiti, soprattutto i capi spalla, che è una cosa che richiede anni di addestramento e formazione del personale. Per di più, in realtà c'è un'apparente disoccupazione elevata, ma in realtà le figure tecniche non si trovano, per cui non è così facile. Però è vero che nel lungo andare probabilmente non si è più così estremi nell'andare a cercare il più basso costo possibile. Poi vedremo che cosa succede nel lungo termine perché l'essere umano tende a dimenticare, e quando le cose tornano ad andare bene probabilmente tende un po' a dimenticare i problemi. Senta, concentratosi un momento sulla crisi occorale, a bocce ferme, qual è oggi la situazione e l'evoluzione, ovviamente nessuno lo sa, speriamo che la guerra finisca il prima possibile. C'è qualche impatto anche su voi, oppure è un impatto marginale, un impatto importante? Purtroppo sì, perché ovviamente il clima di fiducia è assolutamente compromesso in questo momento, e poi l'alto costo dei carburanti e dell'energia, per esempio per il riscaldamento domestico, causerà minor reddito disponibile per le famiglie e quindi taglieranno acquisti non indispensabili. In alcuni settori l'Ucraina ospitava anche fabbriche di produzione, ad esempio di componenti per il settore automobilistico, che ovviamente si sono fermate, e l'alto costo dell'energia chiaramente causa un aumento dei prezzi, sia dei trasporti che anche delle materie prime. Senta, digitalizzazione, i due driver, digitalizzazione e sostenibilità, che poi ben guardare sono due facce della stessa medaglia, io vedo che voi fate accordi, innovazione, 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 sembra una cosa, diciamo, fanno le cose con le reti da pesca, quale innovazione? Invece, sembra facile, ma in realtà è estremamente complicato, perché la rete da pesca non è un materiale facile da riciclare, altrimenti lo avrebbero già riciclato precedentemente. Però mi fa piacere questo argomento, perché anch'io continuo a dire che la vera rivoluzione si farà quando saremo in grado di mettere assieme sostenibilità e digitalizzazione. Acquafile è molto impegnata su questo fronte. Ma fate continuamente accordo con concetti di ricerca, università, uno non gli sta dietro, sembra una lepre che non la devi mai. Purtroppo il mondo si cambia solo se si investono tanti soldi partendo dalla ricerca. Se pensate all'enorme quantità di denaro che si è speso in 100 anni o in 150 anni per fare quello che abbiamo, adesso lo dobbiamo completamente ripensare. E bisognerà a spendere almeno un'altrettanta enorme quantità di denaro. Acquafile, che è una piccola azienda, lavora tantissimo con università e centri di ricerca e continuiamo ad assumere persone, incrementare la nostra capacità di ricerca e a depositare brevetti o inventare nuove tecnologie. Dice piccola, comunque andate verso i 600 milioni di euro di ricavi. Sì, sì, poi dipende sempre, in Italia magari non siamo così piccoli, in America ci chiamano una microcap. Ultimo argomento che lei ha già toccato, la sostenibilità. Io vorrei ricordare che la fondazione Simbola, che è un po' anche un punto di riferimento, nel report 100 Italia Circular Economy Stories, porta ad esempio, tra i vari esempi, ma tra gli esempi più importanti, Aquafile. Che prova lei di fronte a questi riconoscimenti? Ma si saranno sbagliati? No, chiaramente quello che stiamo facendo è una vera rivoluzione e questa è la definizione corretta. Pensare di fare una giaccavento che sia perfettamente riciclabile, che mi possa dare un'altra giaccavento senza buttare via niente, senza che ci siano rilasci di sostanze pericolose o tossiche o microfibrille e farla più bella invece di farla più brutta, penso che sia una vera rivoluzione. È quello che stiamo cercando di fare e per questo siamo menzionati da tantissime prestigiosissime... Non solo io ho preso ad esempio questa di simbola, ma in continuo di riconoscimenti, eccetera. Bene, dottor Bonazzi, noi ci aspettavamo molto e lei non ha deluso le attese ancora una volta, quindi complimenti. Ricordo che abbiamo parlato qui alla Star Conference 2022 con il dottor Giulio Bonazzi, che è amministratore delegato, sì o fate voi, se siete anglofoni o eccetera, del gruppo Aquafile, il gruppo che abbiamo ben descritto, la cui importanza certamente non sfugge a nessuno. Grazie. Grazie mille.